Sono state formulate varie ipotesi che vedono delle linee di riva un po' più avanzate rispetto all'attuale posizione della città. Qui sul tavolo ci sono alcune mappe che riproducono gli ambienti presenti al momento dell'eruzione, cioè della scomparsa di Pompei del 79 d.C. E si è proceduto in questo modo, si è avuto la possibilità di andare a prelevare i terreni attraverso carotaggi, quindi attraverso dei fori nel terreno, i terreni che sono stati immediatamente sigillati e sepolti dall'eruzione del 79. Così come all'interno della città vengono studiate le case e gli ambienti urbani della città, anche gli ambienti più prossimi all'ipotetica linea di costa sono stati investigati attraverso dei carotaggi e non con scavi archeologici profondi. Si è avuto quindi la possibilità di andare a osservare delle carote profonde mediamente intorno ai 10-15 metri e all'altezza di 6-7 metri dal piano campagna si sono intercettati i livelli di frequentazione del 79 d.C., quelli sigillati dall'eruzione. Oltre a una prima analisi diretta e di alcune analisi che abbiamo fatto in laboratorio circa i costituenti di questi sedimenti, se erano sabbie, argille, limi o ghiaie, e quindi già una prima ipotesi su che ambienti, se erano ambienti marini, fluviali, paleosuoli o ambienti continentali o palustri, si è avuta la possibilità di prelevare alcuni campioni e di analizzarli dal punto di vista del contenuto fossilifero, proprio per discriminare a quali ambienti appartenevano, se erano marini, come dicevo prima, continentali o di lagune o salmastri o palustri. Grazie allo studio eseguito da due ricercatori, una professoressa dell'Università di Federico II del Dipartimento d'Ista, la professoressa Barra, e di un suo collaboratore, il Dottor Aiello, che sono dei micropaleontologi, hanno identificato che in alcune aree prossime alla città, cioè soprattutto prossime all'insula meridionalis, quindi di fronte all'insula meridionalis, erano presenti fossili di ambienti marini, di un mare basso, quindi non immaginiamo un mare molto molto profondo, direttamente aggettante il motondoso, ma un ambiente riparato dietro la duna, questa che vedete in arancione, che ospitava il settore di spiaggia, la vera propria duna e alle spalle immediatamente c'erano ancora degli ambienti marini salmastri e quindi si è avuta la possibilità di, attraverso lo studio di questi carotaggi, di delimitare l'area con un poligono, questo che vedete in grigio o in celeste in quest'altra mappa, dove al 79 d.C. erano presenti ambienti marini. Quindi questa prima segnalazione rispetto agli studi del passato, ci permette di avanzare tutta una serie di ipotesi che devono ancora essere supportate da ulteriori ricerche, soprattutto cercare di capire se questo bacino marino riparato dietro la duna potesse essere in qualche modo una delle aree portuali, ma se non proprio il porto di Pompei, almeno una delle aree dove si poteva arrivare con imbarcazioni di più piccolo cabotaggio e magari attrezzare tutta una serie di strumenti per portare i materiali in città, le derrate e tutte le cose commerciali che potevano in qualche modo essere insodotte a Pompei. Vista la vicinanza sia con la porta stabiana che con la porta marina, due settori che sono le due porte più importanti della città, quelle che materialmente guardavano il mare. Oltre a questo, siccome c'è la presenza di ambienti marini, non per forza uno deve immaginare che ci fossero ambienti destinati alle aree portuali, ma potevano essere anche ambienti salmassi, destinate alla produzione del sale o alla produzione di industrie per la produzione di pesce o di altre cose, visto che a Pompei se ne faceva largo uso sia del sale e sia delle derrate derivanti dal mare.